L'esecutivo guidato dal sindaco Massimo Cariello ha approvato il preliminare del nuovo piano urbanistico comunale insieme con il relativo rapporto ambientale preliminare predisposti dal servizio urbanistico del comune di Eboli. L'atto tiene conto dei vari contributi pervenuti sotto forma di manifestazione di interesse o osservazioni da parte della cittadinanza e degli operatori economici. Entro il 21 febbraio 2019 si potrà ancora acquisire ogni altra osservazione. Successivamente la relazione del piano urbanistico comunale da parte dell'ufficio urbanistica con la consulenza scientifica dell'Università di Salerno. Altra novità per gli ebolitani è che è stato emesso il nuovo bando per l'assegnazione di 10 lotti PIP. Il comune disegna il rilancio strutturale definitivo dell'area. Soddisfazione per il sindaco Massimo Cariello, l'assessore Giovanna Albano ed il presidente di commissione Cosimo Naponiello.